Il distretto orientale della città è stato colpito duramente. Le squadre Alfa hanno evacuato più di 800 vittime. Notizie Flash! La guerra in diretta per voi. Il garage Mamago nella Baia Sud è... Ilcorre all'karrizi della città è stato colpito Sidon. Sono stati relativi nel mondo dell'arrizi. Per chi è lo scopo. Alcante finalmente si parla di risultare delle cose, ma sono stati sviluppate dei nomi dell'arrizi. Un'altra la scuola čia si parla trallono delle cose. Ma questa è una maggiore poi delala di dove è arrivai ad una botta. A me stiamo lavorando per farlo con la scuola. Ho ghi Hayati ho un'altra maggiore. Ho ghi Di pazificato. ' se il motore ti fa disperare il garage mammago devi chiamare hey Jake identificazione conto ok brava Jake identificazione conto ok ok Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, 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 no! Pablo! Fan! Yo! Attenta, Miss Jade! Le squadre Alpha potrebbero essere ancora lì! Doppia H! Hanno preso i bambini! C'è nessuno! Umi! Zaza! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai cercato di aiutarli. Ti eri ripromesso di non lasciare mai che accadesse loro qualcosa di male. Che li avresti sempre protetti. Lo so, bello. Ma non è andata proprio così. I bambini sono scomparsi e tu non hai potuto fare niente. Tu sei qui, sano e salvo. Che pensavi di fare? Credevi davvero di farcela, Bao Bao? Ti sbagliavi. Ti sbagliavi, amico. Ti sbagliavi di grosso, purtroppo. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente. Dobbiamo andare adesso, Miss Jade. È finita, doppia H. È finita. Sono ancora vivi, Miss Jade. Paige, i bambini, sono ancora tutti vivi. Sì. 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 Tutto bene, Miss Jade. Tutto bene, Miss Jade. Tutto. Sì. Grazie a tutti. 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 Jade, sono appena arrivate nuove perle. Passa dal negozio se ti interessano. Allarme rosso! Allarme rosso! Scudi in funzione! Dams! Attivare barriere intensive! Sigillare la torte! Fuoco! Ehi, non sta fermo! Un attimo! Non perderlo di vista! Ok, lo vedo! Preso! 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 Andiamo! 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 fermarti! Tieni duro, Miss Jade. Si sta indebolendo. Sous-titrage ST' 501 Bene, ho archiviato la foto. Sous-titrage ST' 501 Bene, ho archiviato la foto. Bene, ho archiviato la foto. Impossibile sulla terraferma Grazie per la visione 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 Scansione ok Intruso, intruso, procedura di distruzione Intruso, intruso, procedura di distruzione Sì, signore Intruso, 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 procedura di distruzione Grazie per la visione Compagno nei guai Compagno nei guai Compagno nei guai Il garage man mago sarà l'unico a gioire Grazie per la visione 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 Sarà qui che nascondono il loro tesoro, il che spiegherebbe un sistema così complesso. Una escampata bella! Presto! La porta si chiude! Sparagli, Miss Jade! Non deve scappare! Nessuna pietà! È in trappola! La porta si chiude! Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti